Quando si pensa a Gardaland il pensiero va immediatamente a una straordinaria avventura della fantasia. Nel parco infatti ci sono molte attrazioni dedicate al mondo incantato della fantasia, dedicate ai bambini più piccoli, ai nostri piccoli sognatori, e poi ci sono grandiose attrazioni dedicate all'avventura. Ma il terzo ingrediente di Gardaland, di questo mondo incantato, è la magia. E quindi l'anno 2019 sarà dedicato appunto alla magia. Sarà dedicato innanzitutto all'apertura di un nuovo, grande, fantastico hotel, il Magic Hotel, un investimento di 20 milioni. Il nostro terzo hotel è interamente tematizzato. Tre tipologie di camera a tema magiche. La prima è foresta incantata, dove i bambini dormiranno tra funghi magici e alberi parlanti. La seconda è cristallo magico, ispirata al magico mondo dei ghiacci con unicorni alati. E la terza è il grande mago. Il grande mago con un cappello da mago appoggiato alla parete e libri volanti sul soffitto. Magia per noi significa l'anno prossimo anche l'inaugurazione di un'attrazione nel parco dedicata ai bambini, la foresta incantata. Un percorso lungo il quale i bambini incontreranno magie come alberi parlanti, funghi giganteschi, fiori che si muovono, e la strega cattiva che ha lanciato un incantesimo sulla foresta e vuole trasformarla in pietra. Ma i bambini, attraverso delle pietre magiche da consegnare nella casa del mago all'interno di un calderone magico, scateneranno un incantesimo positivo sconfiggendo la strega. Non finiscono qui le attrazioni e le novità magiche di Gardner del 2019. Ci sarà uno show chiamato Magic Elements, ispirato anch'esso al mondo della magia. Ci sarà un evento nuovo dall'inizio della stagione, dal 31 marzo fino a metà giugno, quando il parco si vestirà e parlerà il linguaggio della magia attraverso show, animazione, musica e tematizzazione.